In signa, in nazionale, cosa potrà fare Lorenzo in Brasile? Sicuramente può far bene, è un giocatore che ha talento, tra l'altro ha finito il campionato in crescendo, quindi speriamo che possa essere anche il suo mondiale. Per concludere, cosa manca al Napoli invece per lottare per i primissimi posti in Italia? Guarda, sta facendo molto bene, deve solo avere pazienza perché poi non è facile con una Juve così essere ambire ad arrivare i primi, però sta facendo molto bene, c'è un allenatore molto capace. Grazie.